Quale suggerimento, spunto hai colto nella giornata di oggi da parte di Giuliano? Sicuramente il settore di cui stiamo parlando, stiamo trattando, che è la ristorazione o comunque il settore del turismo, un settore che in questo momento ha grosse problematiche, che un imprenditore da solo fa fatica spesso a venirne fuori. La cosa bella di Giuliano è che ti dà comunque una positività e una visione globale della situazione e cerca già solo con questo primo step di darti delle chiavi che puoi già iniziare a utilizzare, per cui è sicuramente una cosa piacevole da ascoltare e sicuramente ci sono spunti molto interessanti che già puoi mettere in atto appena esci dall'aula del corso. Una domanda che gli vorresti porre, proprio relativa magari ad eventuali problematiche che riscontri nella vita di tutti i giorni? Gliene posso fare due. La prima è come fa a fare selezione, a parlato di questo test, eccetera, però penso che sia anche empatia. Quindi io spesso, anche se mi metto a fare i test, mi metto a fare domande, eccetera, credo molto nell'empatia, quindi credo che siano anche delle doti che uno può avere. Quindi prima come fa a selezione. E l'altro è che mi ha cambiato proprio la visione di questo media che è TripAdvisor, come fa a gestire TripAdvisor. Grazie mille Silvia. A voi. Ciao. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.